Buon lunedì 18 gennaio, fuori fa freddo ragazzi, ma noi siamo, vi scaldiamo noi il cuore, ecco cominciamo così la settimana? Come no, con un grande amico che torna a trovarci, il dottor Antonio Piacirio, buongiorno Antonio. Buongiorno a voi, grazie mille. Allora noi a proposito dei ficci e gamienti, tutti insieme dobbiamo fare dei complimenti perché meno di 30 minuti fa è arrivata una notizia straordinaria per tutta la campagna. Siamo molto molto lieti. Eccola qua, la stiamo vedendo, Procida è la capitale italiana della cultura del 2022, abbiamo seguito tutta la fase di avvicinamento, abbiamo intervistato il sindaco che si preparava per questa lezione, che doveva dare come uno, veramente questo esame che doveva dare come veramente uno studente universitario tesissimo qualche giorno fa. Poi in gara c'erano davvero delle concorrenti molto molto dure da abbattere in quanto a cultura e quindi davvero siamo felicissimi anche perché quando l'arte e la cultura ricomincia, soprattutto con riconoscimenti del genere, si riattiva un po' tutta l'economia. Molto tenero questo post proprio sulla pagina Facebook del Comune, non avevamo posto pronti per scaramanzia, Procida è la capitale italiana della cultura 2022, la cultura non isola, bellissimo e grazie a tutti. Naturalmente ho provato a chiamare il sindaco Ambrosino ma sarà ovviamente in cortevo. Poi il sindaco Ambrosino ho berrato di telefonate, di complimenti. Il sindaco Ambrosino poi non se la deve svignare, se la deve dire tutto il programma, gli eventi, tutto quanto. Adesso lo tampineremo per aiutarci a vivere questa bella emozione. Che era fortemente risolvata. Che bella, bella notizia. Auguroni, è certo, bellissimo. È una vittoria che riguarda tutti quanti noi. Però adesso dobbiamo parlare dei nostri piedi e non solo. Sì, dobbiamo parlare della salute che parte dai piedi ma poi si irradia su tutta quanta la colonna vertebrale, quindi anche di posturologia, vero professore? Assolutamente. Io diventerei volentieri un allieva anche del professore Antonio Paciglio, docente universitario, perché è un argomento che ci affascina moltissimo. Da cosa cominciamo? Allora, l'argomento di oggi è il taping neuromuscolare. Esatto, il taping neuromuscolare è un argomento molto carino. Cioè, fratello, faccio quello che ti vuole chiedere. Sì. Ma, se mi dica, cos'è? Infatti io ho detto cos'è che... Adesso me lo chiede. Sei impersonato subito. Vabbè, che bella atmosfera, meno male, bravi, così si fa. Assolutamente. Sì, allora, l'introduzione di Titta è giustissima. Iniziamo sempre con il discorso piede, considerando l'importanza del piede, ma ci allunghiamo al discorso del concetto posturale e quindi introduciamo un argomento nuovo che è appunto il taping neuromuscolare, che ci permette di ottimizzare e migliorare molte problematiche muscoloscheletriche, neurologiche e vascolari, attraverso quell'applicazione di quei cerottini colorati che molto spesso tutti voi e noi abbiamo visto spesso in tv, no? Quindi non è solo per moda quel cerotto? Assolutamente no. Vediamo qui un esempio di questi cerottini colorati, che sono sicuramente gradevoli alla vista, perché questa cromoterapia, questo gioco di colori, permette anche di essere più gradevoli, più belli, più gioiosi, no? Ma hanno sicuramente uno scopo. Quindi il taping in generale, il taping prende il nome da tape, che appunto è nastro, questo nastro colorato che esiste di diversi colori e che viene applicato dallo specialista sia in prevenzione che in cura, un po' come tutte le cose che facciamo. Noi diciamo che noi cerchiamo sempre di prevenire quelle che sono le problematiche relativamente ai deficit di appoggio del piede, le problematiche anche di infortunio nello sportivo, ma anche le problematiche posturali. E questo nastro, questa tecnica, questa metodologia, particolare ci permette appunto di andare ad ottimizzare il nostro lavoro sia nella pre-gara che nel post-gara. O comunque anche in quelli che non sono soggetti che fanno attività sportiva, comunque in prevenzione e in cura di patologie, a carico insomma dei tendini, dei muscoli, delle articolazioni. E abbiamo portato alcuni esempi che adesso vediamo, insomma. Ma è una tecnica molto efficace e anche molto 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 utilizzata. Eccolo qua, iniziamo a guardare subito qualcosa che è fondamentale. Che cosa accade qui sotto? Allora, in questo caso il tape è stato utilizzato per un duplice scopo. Cioè abbiamo fondamentalmente scaricato un metatarso, quindi un osso in quel caso del quarto metatarso M4, che era particolarmente dolente e l'abbiamo scaricato con questo feltro, quindi quella cosa bianca che vediamo per intenderci. E' stato poi medicato con una cremina che potesse in quel caso lenire il dolore ed è stato applicato un tape che andava comunque a comprimere il piede, ma anche stabilizzando un po' le articolazioni, permettendo al paziente di non avere dolori nell'attesa della realizzazione del presidio ortesico plantare, perché comunque aveva un deficit di appoggio plantare e un deficit posturale. Allora, una curiosità che mi attaragna da sempre, l'ho visto spesso in televisione, agli sportivi, anche ai calciatori del Napoli. Abbiamo visto anche ai calciatori del Napoli, a Ballotelli, quando era nazionale, con i cerottini, era la colonna vertebrale, no? Allora, questo tape è impregnato di qualche sostanza oppure è asciutto? Assolutamente non c'è niente, se non un collante. Allora, la cosa importante da sfatare è che sia il colore e sia il naso in sé per sé non hanno né nessun tipo di medicamento all'interno, né tra nemmeno il colore cambia qualcosa. Il colore è semplicemente una identificazione per l'applicazione del tape, ma anche un qualcosa che permette di rendere più gradevole quell'applicazione. Cioè, in un paziente magari anche particolarmente più ansioso, più depresso, magari più spento o più demotivato, magari un tape, anziché nero come nella foto in questo momento, che era in un ragazzo con un esito opposto distorsivo, quindi una distorsione di caviglia, mettere un cerottino un po' più colorato, applicando diverse tecniche, permette anche di strappare un sorriso a quel sportivo o a quel paziente, che in quel caso è un po' più demotivato, un po' più stanco, non posso partecipare alla maratona, non posso andare al lavoro, chi te lo dice che non può partecipare alla maratona, chi lo dice che non può andare al lavoro? Noi facciamo in modo tale che tu possa partecipare e tu possa ottenere quello che è il risultato, che speriamo tu possa ottenere, applicando un qualcosa che ci permette di temporeggiare adesso, ottimizzare e migliorare, per poi approfondire ed evitare che questa problematica che ti è capitata possa nuovamente capitare, e questo lo faremo poi attraverso una rimodulazione della postura e dell'appoggio plantare in uno step successivo, ma adesso si va in urgenza, cioè dobbiamo solo stabilizzare questo problema e risolverlo, per permetterti di fare quelle cose che tu avevi intenzione di fare. Ma il tape si applica anche al ginocchio, perché questo giovanotto qui... Si applica dappertutto, il tape si applica in qualsiasi zona... Lamenta sempre dolore al ginocchio. Si applica dappertutto, dai piedi alle ginocchia, alla colonna, all'anca, alla spalla, al braccio, al polso, al dito, insomma non è una... Il discorso è che appunto, come dicevamo prima, è una metodologia che viene applicata per la risoluzione problematiche muscoloscheletriche, neurologiche e vascolari. Perché permette di fare queste cose? Perché in realtà il tape può essere tagliato ed applicato secondo diverse forme, no? Che vengono studiate, tagliate e collocate in funzioni di quello che è il problema che si vuole trattare. Ma in linea generale, questo appunto tape, questo nastro, permette, secondo appunto l'applicazione della metodologia che prende il nome di taping neuromuscolare, permette di andare a ottimizzare, vediamo proprio questo caso clinico, lo prendiamo proprio a pennello, che vedo io in primis, un esito distorsivo di caviglia. Vediamo una distorsione di caviglia con la formazione di un ematoma abbastanza anche importante nella zona mediale, quindi sotto il malleolo per intenderci e che si è steso lì. E vediamo, dopo la, nei vari step, quindi le foto sono, quella a sinistra e la prima, dopo, subito dopo il trauma, 24, 48 ore, il tempo che si forma l'ematoma e quindi il piede si gonfi, la foto verso destra, dove applichiamo un tape, in quel caso leopardato, particolarmente, fashion, esatto, alla Federico Fashion Style, per intenderci, a destra, e dopo che vediamo sotto, in basso, a sinistra, i vari esiti di riassorbimento dell'edema e dell'ematoma che si era venuto a creare a causa di una distorsione di caviglia, che ricordiamo in quel caso di un paziente di sesso maschile, giocatore di calcio, quindi un esito post-traumatico dovuto, appunto, a un gesto atletico durante la partita di calcio. E dopo tre giorni, però, l'ematoma è rientrato? Era quasi rientrato completamente, fondamentalmente, noi parliamo di due giorni dopo l'applicazione, naturalmente, perché in realtà, l'ematoma si forma in 24, 48 ore, dopo quella tempistica lì, il paziente è venuto, subito da noi, abbiamo applicato il tape, abbiamo applicato un protocollo nostro terapeutico, che prende il nome, appunto, di metodo sempre Pacilio, e dopo due giorni dall'applicazione del tape, vediamo che è risultato già con una diminuzione notevole dell'edema e dell'ematoma sottocutaneo, fino ad arrivare a, se non erano lì, cinque giorni? Vedo bene, sì. Cinque giorni? Cinque giorni. No, tre giorni. Tre giorni. Dopo altri tre giorni dall'applicazione, quindi tre più due, cinque, ricordavo, più o meno dall'applicazione del nastro, e vediamo una esozione quasi sull'istituzione di intercom, quindi il paziente già con il tape è riuscito già a poter nuovamente camminare, non giocare a calcio, ma camminare sicuramente dipende dall'attività normali, permettendo a piedi di sgonfiarsi e quindi di mettere nuovamente la calzatura per deambulare normalmente, per andare al lavoro, e pian piano in progressione di quella che era la riduzione dell'ematoma, la diminuzione dell'edema e la diminuzione del dolore, poter pian piano ritornare alla vita normale, dipendendo a distanza di circa altri cinque, sei giorni, pian piano in maniera graduale gli allenamenti nuovamente e di cominciare a giocare a calcio. Devo aggiungere una cosa perché altrimenti qua noi ormai facciamo il fai da te non si può fare ragazzi, è inutile, a scriverello, ma vado a comprare il cerottino colorato, me lo metto e fai in guai. Infatti qualcuno dice dottore me lo vendete, qualcuno dice dove lo trovo? In farmacia? Lo trovo a sul mercato? Non basta il cerottino colorato, bisogna sapere cosa farne. No, ma il cerotto viene applicato secondo una tensione che viene data, se vogliamo decomprimere la zona, se vogliamo scolare il tessuto, l'obiettivo principale del TIP fondamentalmente è permettere una maggiore affluenza di sangue in quella zona, andare a scolare i tessuti e drenare l'infiammazione. Questi sono i principi generali del TIP e secondo i quali viene applicato. Non è che lo appiccichi sopra e finisce, c'è una tecnica che viene utilizzata per applicarlo in maniera idonea e che possa permetterti di avere il risultato sperato in tempi brevi, non è che l'appiccichi come se fosse un cerottino per una medicazione. Ma è idoneo anche per il colpo della strega? Poi si utilizzano per qualsiasi problematica dalle tendinopatie inserzionali alle cervicalgie, alle lombalgie. Naturalmente il cerotto, vediamo un'immagine qui di tendinopatia inserzionale, no? Un'infiammazione dell'achileo dovuta a una sollecitazione durante l'attività sportiva o magari ad una storta, una banana estorta in un paziente che magari cammina per strada in maniera graduale ha un'infiammazione del tendine che lo porta a avere una sofferenza, un'algia tendinia e quindi ha una risoluzione del problema. Dice allora come facciamo adesso? Io è venerdì, io devo partire, ok abbiamo tempi rapidi, io dottorio devo partire, applichiamo un tape in questo caso che parte dalla zona inferiore quindi dalla zona malleorale e dal tendine e risale fin solo che questa paziente aveva una problematica anche al ginocchio e alla coscia. Ecco in questo caso la zona non va lavata? La zona va pulita fondamentalmente con un liquido particolare nel caso di maschietti vanno tagliati i peli perché oggettivamente comunque vanno influere sulla tensione e sullo scollamento del tape che ricordiamo può durare da foglietto illustrativo anche 5-6 giorni diciamo che la durata è di 3-5 giorni è resistente all'acqua assolutamente basta non dopo non strofinare il tape perché altrimenti i lembi si sollevano ma tamponare pian piano il tape affinché si asciughi da lontano asciugalo magari col fondo quel poco che ha assorbito l'acqua e avere quindi una tensione un'applicazione in più zone del corpo con una diminuzione del dolore in questo caso erano dei trapezzi infiammati e dolenti con una cervicalgia e una dorsalgia abbiamo applicato un'azione drenante del tape che permettesse di stabilizzare questa contrattura e permettesse al paziente di poter adempiere a quei gesti quotidiani che erano necessari in quel giorno in quei giorni perché doveva anche essere una ragazza che faceva la ballerina di danza classe e quindi doveva partire per fare insomma uno spettacolo particolare quindi parliamo prima della pandemia purtroppo e fondamentalmente è riuscita nuovamente a potersi insomma potersi allenare a poter fare quel gesto atletico poter lavorare tranquillamente senza nessun tipo di difficoltà perché naturalmente il tape l'obiettivo poi è sì scollare drenare fare arrivare più sangue e lenire il dolore ma anche per permetterti di adempiere e fare quel gesto atletico con minore fatica minor dolore e naturalmente migliorando anche il range articolare se tu hai un dolore non puoi sollevare il braccio più di tanto parliamo del braccio magari la spalla non puoi sollevare più di tanto con il tape riesci ad avere un miglioramento anche del rom quindi il range of motion che ti permette di avere una maggiore facilità di adempiere a quel gesto atletico o in quel gesto che magari ti permette di cucinare di lavare di vestiti e così via chiedo alla regina di tornare un attimo alla foto precedente poi andiamo alla schiena perché è l'esempio di quello che dicevamo prima non puoi farlo da solo si deve evidentemente fare se guardate la foto vedrete che le linee non sono uguali da un lato all'altro quindi sembrano anzi effettivamente fanno dei percorsi che sono certamente determinati dalla visita sono determinati dalla visita dai trigger point dai punti dolorosi dagli stati di infiammazione di contrattura muscolare dal grado di dolore quindi appunto non sono simmetrici perché la densità l'intensità anche del dolore l'intensità anche del genio moscio sembra quasi dottore che lei segue una mappatura è come se fosse una sorta di mappatura esatto come se fosse una sorta di mappatura proprio una sorta di ricostruzione bravissima infatti se ritorniamo alla prima immagine che abbiamo messo prima quella del tape viola e blu se non è azzurro esatto in questo caso noi stiamo seguendo se seguiamo il nastro per intenderci quello violaceo quello rosa quello segue tutti i tendini estensori del dorso del piede fino ad arrivare alla zona in cui inserisce il tendine che è dorsalmente le dita quindi segue proprio in molti casi l'inserzione e il decorso tendinio proprio perché serve a far affaticare di meno il tendine a farlo lavorare di meno avere meno dolore e permettetti di fare quello che normalmente devi giustamente compiere nel post questo è proprio rivoluzione pura questo è qualcosa che si utilizza da alcuni anni sia a livello amatoriale se parliamo di sportivo a livello amatoriale ma anche a livello professionistico diciamo prima Barotelli in una famosa foto insomma quando era in nazionale aveva due i tape lunghi che partivano dalla zona alta fino alla zona bassa o nella zona lombra adesso non ricordo che gli hanno permesso di in quel caso di fare anche i gol e di giocare quella partita e in un paziente in quel caso calciatore giovane con un forte mal di schiena che magari se non avesse avuto la possibilità di avere l'applicazione di tape non avrebbe potuto giocare non avrebbe potuto partecipare alla partita evviva e andiamo a questa cosa che ragazzi posso dire che il 99,9% periodico della popolazione soffre mal di schiena assolutamente sì più avanti quegli anni peggio è però il doloretto ti viene anche sulla quarantina ma il doloretto viene anche prima diciamo che quello che facilita il soggetto giovane al soggetto un po' più adulto è il fatto di avere una muscolatura un po' più tonica quando andiamo avanti con l'età quindi quando ci avviciniamo mai per intenderci ai 38-40 anni dove inizia già una sorta di virgolettiamolo invecchiamento anche muscolare articolare iniziamo ad avere una vita un po' più sedentare la famiglia il lavoro meno sport e quindi passiamo a una muscolatura che prima era più tonica e più trofica a una muscolatura un po' più ipotonotrofica quindi meno forte avendo dei muscoli che sono meno forti e stabilizzano di meno anche le articolazioni normale che di conseguenza si va più incontro a delle contratture di dolore articolari muscolari e quindi bisogna naturalmente dopo un'accurata visita del piede della postura quindi una valutazione integrata e globale del corpo si va a localizzare la causa del problema e di conseguenza eliminare l'effetto sia con metodologie come abbiamo visto in una del TIP che posto immediatamente riduce il dolore e poi un successivo poi trattamento dove in funzione delle cause venute fuori dalla visita specialistica si vanno a trattare nei vari step tutte le cause per andare a avere una istituzione e quindi un miglioramento della qualità della vita di quel paziente che meraviglia complimenti davvero si risolve noi vi consigliamo sempre di non rinviare guardate in tutte le cose anche in questa arrivarci in tempo è importante perché più rinvii più ti ingombisci più ti prendi degli atteggiamenti diversi più cabini male il corpo molte di queste metodiche che si applicano anche nella medicina alternativa ma anche nella medicina in generale è anche un po' stimolare l'autoguarigione però facendo qualcosa l'autoguarigione se non si fa nulla si mantengono sempre i stessi stili di vita errati si è magari in sovrappeso si hanno dei deficit che non vanno curati non vanno vautati non vengono trattati è normale che poi si vada in conto a dei problemi che possono degenerare e cronicizzare in questo caso ad esempio vediamo un tape applicato di colore differente di forma differente ma che andava in questo caso a drenare una problematica di dolore alla caviglia ma andava anche a stabilizzare in questo caso questo tape applicato così andava anche a simulare una sorta di cavigliera quindi in realtà quella caviglia è la più bloccata più frenata meno dolore meno edema e di conseguenza un sorriso da parte del paziente già immediato e subito dopo la visita quindi un sostegno un sostegno vero in questo caso simuliamo proprio una vera e propria cavigliera oggi è sabato fegge non trovo sabato mattina non trovo la cavigliera dove la trovo come faccio ok dreniamo la zona togliamo un po' il dolore applichiamo il nostro protocollo stabilizziamo la caviglia e dreniamo i tessuti permettendo di star meglio il lunedì e poi il lunedì pian piano vediamo tutto seppure interista l'hai fatto felicissimo e poi interista esistono poi i tape anche per le squadre di calcio quindi se quello per interista quello per il milanista quello per lo giuventino per il napoletano vabbè le aziende naturalmente si divertono a creare dei tape colorati in funzione anche della questa come diciamo prima la cromoterapia ma stessa cosa succede per il discorso dei rivestimenti di plantare nei ragazzini nei bambini ci divertiamo anche noi a chiedergli magari se è tifoso di una squadra oppure se magari è un colore che preferisce la bambina magari preferisce il rivestimento rosa o violetto noi la accontentiamo perché così riusciamo ad avere una compliance che nel paziente giovane o bambino o anche adulto è comunque fondamentale ai fini dell'esito del trattamento quindi la compliance è fondamentale quindi magari riuscire ad arrivare a un compromesso tale anche con un bambino per fargli portare il presidio ma con un colore che preferisce voglio dire non ci toglie niente ma anzi ci dà un plus per ottimizzare il trattamento io conosco dei bambini in ultra quarantenni che se gli metti un coso di questi bianco nello muoiono quindi bisogna stare attenti bravo Antone diciamo che possibili anche per sfiduciare nel caso che magari giocano Napoli-Inter ad esempio o Inter-Napoli e metti un tip del genere e lo sfiduci molto carina questa idea poi ha una gamma di colori quindi accontenta tutti io vorrei ricordare innanzitutto il numero di telefono del centro Paciglio 081 27 50 21 è scritto anche in sovraimpressione e c'è un'unica sede che si trova a San Giorgio a Cremano in via Margherita di Savoia numero 25 io ormai l'ho imparato a memoria perché dobbiamo dare le giuste indicazioni coordinate anche per chi arriva da fuori regione sono tanti i pazienti che arrivano da fuori regione anche da fuori nazione sì molti vengono da fuori regione molti vengono dall'estero naturalmente la pandemia ha rallentato un pochettino quello che era lo spostamento anche se per ragioni di salute ci si può comunque spostare ragioni di salute vere e motivate e serie però diciamo il nostro centro è un riferimento per molti per tutte quelle che sono le problematiche di prevenzione e di cura sia delle alterazioni ma anche delle patologie dei piedi della postura quindi ci siamo onorati e di insomma di avere un'utenza così ampia e questo gratifica il nostro lavoro ci permette di andare ad ottimizzare tutte quelle che sono le metodiche che applichiamo nel centro e che ci permette di migliorare quotidianamente giorno dopo giorno anno dopo anno e dare un servizio sempre migliore un altro caso andate sul sito date un occhio riguarda certamente anche voi e non rinviate non rinviate non sappiamo più come dirvelo perché poi passano i mesi addirittura gli anni è una cosa che si poteva risolvere in 5 minuti ce ne vogliono 15-20 perché tanto ci viene sì perché quando il dolore cronicizza è normale che naturalmente se ci portiamo con un dolore che abbiamo da 3-4-5-6 mesi è normale che quell'infiammazione aumenti e quindi possa coinvolgere più strutture sia se riguarda il piede sia se riguarda un ginocchio sia se riguarda la corna vertebrale in prevenzione naturalmente riusciamo a diminuire i tempi seppur i nostri trattamenti hanno un'efficacia e una riduzione dei tempi netta ma sicuramente partire da uno stadio iniziale del dolore permette sicuramente di avere anche una risoluzione più veloce del dolore ma poi magari vivi anni con una fascite plantare poi alla fine bravissimo ti rendi conto che hai buttato degli anni no ma soprattutto hai diminuito quella qualità della vita nel senso che non ti puoi la mattina ti svegli e ti alzi dal letto e c'è già un dolore come fai ad affrontare una giornata di 13-15 ore se già quando ti alzi la mattina dal letto hai già un dolore forte al piede che poi si diminuisce camminando un pochettino ma che già la mattina ti toglie il sorriso ho già iniziato già ho dolore già figurati a fine giornata comincia male la giornata bravissimo si può ridurre e quindi risolvere il problema a monte esatto e infatti abbiamo collegato a questo dovrebbe esserci un'immagine di un paziente che invece aveva una problematica di fascite plantare legata ad un trattamento post-chirurgico di un alluce valgo vediamo in questa immagine che cosa dei tape e dei cerotti applicati anche in questo caso in un paziente a cui era stato tolto il vendaggio post-operatorio in seguito a una correzione chirurgica in percutanea o in mininvasiva dell'alluce valgo cioè che significa questo paziente aveva deciso di essere operato chirurgicamente dall'ortopedico per un dolore forte e di una deviazione una deformità all'alluce subito dopo l'intervento viene applicato un vendaggio che viene rimosso a seconda della scuola della metodologia da 20 giorni a 18 giorni fino ad arrivare a qualcuno a togliere dopo un mese e successivamente bisogna mantenere costante quella tipologia di vendaggio attraverso dei vendaggi differenti che possono migliorare la mobilità articolare ma possono anche eliminare il dolore in questo caso a causa dello scarpone portato dopo l'intervento il paziente aveva una fascite appunto plantare ed un dolore ancora all'alluce che purtroppo dopo l'intervento era ancora fratturato perché la frattura si conosce dopo 30-60 giorni in questo caso abbiamo ottenuto con un unico trattamento due risoluzioni della fascite plantare dovuta appunto alla scarpa postoperatora e all'alluce correggendo si riesce a vedere lo spazio del primo e del secondo vedete come è eccessivo quello spazio in realtà si fa un'ipercorrezione per far sì che parte della correzione poi venga persa e l'alluce sia completamente riallineato al secondo dopo l'intervento chirurgico e quindi in questo caso è stata trattata sia una fascite plantare ma è stato anche abbassato rimodulato e stabilizzato l'alluce permettendo di abbassarsi di essere in parte corretto ma soprattutto di muoversi meglio e senza o comunque con una riduzione netta del dolore ecco adesso questo paziente quando riprenderà a camminare normalmente? questo paziente ha tenuto questi bendaggi che gli sono stati cambiati un paio di volte a distanza di una settimana dall'altra e poi è trovato nuovamente a camminare e a far sport senza nessun tipo di problema quindi diciamo 20 giorni e un mese il bendaggio post-operatorio il tape applicato una settimana tolto dopo una settimana e rimesso per un'altra settimana e poi si è normalizzato vediamo dall'alto invece un caso similare a quello vedete come l'alluce dopo aver sbendato il piede era ritornato in parte valgo? sì questa è una luce corretta chirurgicamente vediamo il bendaggio il cerotto che vediamo sopra che copre lì in realtà è il cerotto dove c'era il punto che poi è caduto perché sono dei punti riassorbibili dopo tolto il bendaggio in realtà l'alluce aveva perso correzione quindi un paziente non è detto che la fase di intervento chirurgico sia la fase correttiva e risolutiva molto spesso dopo l'intervento chirurgico qualunque esso sia anche la massoplastica additiva il post-operatorio è fondamentale devi mettere il tuo torino che ti stabilizza il seno e far sì che si cicatrizi bene stessa cosa lì se tu vieni operato togli il bendaggio e non segui l'iter post-operatorio ti ritroverai con un alluce che in quel caso è ancora fratturato e che facilmente può deviare nuovamente e quindi puoi tornare nella posizione di prima dopo comunque un intervento chirurgico allora in quel caso si toglie quel bendaggio perché bisogna rimuoverlo per un fatto sia igienico ma anche per un fatto di tensione di stabilizzazione e si apre un nuovo bendaggio e vediamo lì come l'alluce del pre al post-operatorio e non come si stava calcificando lì storto perché un alluce che si calcifica storto rimane storto un alluce per intendere giusto per spiegare alle persone che ci seguono un alluce che si post-operatorio che si inizia a irrigidire non è che dopo si muove se si irrigidisce si anchilosa si blocca bisogna sempre continuare a muoverlo e il tape e le mobilizzazioni attive e passive che vengono fatte nella seduta del cambiamento del nastro e nel trattamento domiciliare permette di andare a mobilizzare attivamente e passivamente quell'articolazione permettendo al paziente di avere una luce più bella esteticamente ma anche più funzionale non ha senso avere una luce post-operatorio quindi una luce operato dritto ma che non si muove ma anzi fa male perché è diventato un allux limitus cioè una luce rigida ma avere una luce bello sia esteticamente ma anche in termini di mobilità vede dottore quante cose che ci insegna perché magari nel nostro immaginario fare l'intervento significa la soluzione e poi il post viene lasciato un po' al caso invece non è assolutamente così assolutamente non è così quest'opera d'arte che è qua che stiamo vedendo adesso eccolo vediamo tutti questa è un'altra nostra applicazione di tape sembra un cuore con le arterie esatto ci sono più tape applicate con più funzioni anche in questo caso il paziente aveva un dolore nella zona dorsale quindi della caviglia era un paziente anche in questo caso operato quindi per un alluce valgo doloroso e abbastanza deformato abbiamo stabilizzato l'alluce permettendo una calcificazione migliore drenato i tessuti adiacenti all'alluce quindi dove era stata fatta la borsectomia l'esostectomia la frattura l'osteotomia e abbiamo appunto anche drenato quella che era la zona della caviglia che comunque era affaticata anche in questo caso all'utilizzo dello scarpone post-operatorio che limitava il paziente che lo faceva zoppicare per non poggiare anche a causa del dolore e così siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato in termini di risoluzione del dolore ma anche in termini di qualità di soddisfazione e di gradevolezza di una luce bello esteticamente ma anche più funzionale bello straordinario veramente anche oggi una corsa su argomenti interessantissimi che veramente appartengono al nostro quotidiano sono anche nuove strade uno magari non immaginava che si potesse arrivare a delle soluzioni diciamo che molto spesso i pazienti non pensano che possano esserci delle cose che insomma o delle metodologie differenti pensano a una metodologia unica e pensano che quella possa aiutare tutti non funziona così per ogni problema ci sono soluzioni ci sono più soluzioni che vengono ovviamente studiate dallo specialista dopo una visita in maniera appropriata ed in funzione di quelle che sono quelle problematiche ma anche tutte le altre alterazioni posturali o del piede stesso noi qui ci affanniamo a ripetere la stessa cosa io ho inevitabilmente avuto degli amici che sono andati dal dottor Pacilio sono stati soddisfattissimi quindi sono un testimone al vivente e praticante soprattutto perché quando dai un buon consiglio a un amico naturalmente sei iper felice voi siete dei nostri ottimi amici fate sta telefonata se avete uno dei problemi comparabili con quanto potete vedere sul sito del centro fotologico sul sito sui social assolutamente allora non rinviate la possibilità di star bene il dottor Pacilio risolve in pochissimi giorni noi nel fuori onda abusiamo di lui della sua consulenza sappiatelo perché siamo arrivati a questi livelli di sinergia chiamiamola in questo modo grazie al professore e al dottore Antonio Pacilio mi raccomando unica sede San Giorgio Cremano via Margherita di Savoia numero 25 contattate subito grazie dottore grazie mille a voi ci vediamo la prossima settimana grazie mille a voi 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 grazie mille a voi